Vediamo direttamente da Stefano La Possibilità, la scuola Stefano La Possibilità. Guardate lo stile con cui quest'essere si ciba delle note musicali. Vediamo lo stile a metà tra il country e l'hip hop e anche il cegaiolo che gli dà giù come un taglialegna. Veramente, guardate, da poco lo troveremo appeso al lampadario. Vediamo. Vediamo, oh, non capiamo se è uno stile nuovo di pesca o di, non lo so. Ah, ecco, lasciamo ventilare la sala giochi che fa caldo là sotto. Oh, è giustamente, ah, che caldo, guarda qua. Iha! Ecco fatto, si ricomincia, prende il puledro e si incammina per la foresta. Vediamo, vediamo, non capiamo se è un cavallo o un tacchino. Se mi sta calcando, può darci anche uno struzzo, visto l'altezza del collo. Oh, ecco, giustamente lo sta richiamando di, che cazzo fai? Ah, qui. Vieni qua. Pum. Oh. Ma sta, ah, ecco, ci sono delle zanzari intorno a lui, l'abbiamo capita adesso. Oh, guardate lo stile che facciamo rifrigerare un altro po' i coglioni che, comunque, ci sta bene. Quando un uomo non ce la fa più, che c'è proprio la, ah, la rifrigerare. Oh, proprio le batilate, dica su, guarda, le ciaffate di puzzo che viene su dalla pappetta del sottopalla. Vediamo, vediamo. Vediamo. State vedendo tutto questo su Facebook, eh? Naturalmente, naturalmente, oh, ecco, appunto, non si sa se sta tagliando la legna o suonando un violino, non capisco. Oh, pronti, oh, come fanno i gentleman, eccolo qui, sì, giustamente, tutti a raccolta. Per il corpo di mille balene. E si risuona, lui suona, perché lui suonare ci rende felici. Guardate. Oh, cazzo, 7.000 di punteggio, eh? Guardate che bello. 7 su 10. 7 su 10, la giuria ci informa se 7 su 10, ricavalca, ricavalca lo struzzo, ricavalca lo struzzo. Vediamo, vediamo, non capiamo se sono movimenti pudici oppure, ah, sta imitando il tacchino. Ecco, adesso invece imitiamo un invasato allo stadio che si sventola la bandiera. Vediamo, fa caldo. No, andiamo a pesca, ecco, andiamo a pesca. Vediamo. E' adatta la... Lo stavo... Ah, mettiamo in moto anche la sega, eccolo qua. Pronti. Oh, e si sloca la spalla. Perfetto. E' adatta la... Perfetto. Perfetto.